Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come realizzare sulle nostre unghie una decorazione che fa riferimento Allora, per cominciare ci servono base trasparente dell'Avon, smalto fucsia dell'Avon, questo verde, questo smalto che vi ho fatto vedere già prima, nero E poi quest'altro uguale bianco Ecco qui tutto quello che ci serve Allora, io ho già cominciato e ho steso la base trasparente, l'ho fatto asciugare e subito dopo ho steso il fucsia su tutto il letto dell'unghia E ho fatto asciugare bene Dopo aver fatto asciugare bene quindi, prendo lo smalto verde Vado a fare un french verde In questo modo Prendo questo smalto bianco e dalla parte del pennellino fine Vado a tracciare una linea Ecco così E lascio asciugare benissimo Dopo aver fatto asciugare, otteniamo quindi questo risultato E dobbiamo andare a fare ora la parte finale, quella dei semini Quindi prendiamo lo smalto nero E dalla parte dove c'è la penna Ecco qui Quindi da questa parte Andiamo a fare i semini Così Quindi cerchiamo di fare un pallino E poi E poi lo trasciniamo da una parte Così in questo modo e questo sarà il risultato finale è una nail art estiva è divertentissima sia da indossare sia da realizzare fatela anche voi ragazze e divertitevi vi mando un bacione ciao ciao